Nessuno merita l'odi per le sue buone azioni se non hai il coraggio di essere cattivo come possiamo essere sicuri che Rocher non gli abbia parlato della manovra? lei è l'unico che può disturbare i loro piani evidentemente lei non si rende conto di cosa c'è in gioco qui penso che lei sia in pericolo padre vorrei che lei mi confessasse grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti